Buongiorno a tutti, e benvenuti a tutti la partita della performazione tra la mano di Agobadova e Alba Costituzza. Per l'Alba Costituzza, con il numero 45, Guardi Anzio Stattone. Con il numero 3, Giovanni D'Arianni Vito. Con il numero 12, Giave Anzio Gale. Con il numero 3, Massimo Di Bello Muga. Con il numero 3, Giovanni Rosso. Con il numero 16, Giave Anzio Gliambi. Con il numero 35, Giaveo Sissica. Con il numero 10, Giave Subbacano. Con il numero 29, Giave Anzio Giovedano. Con il numero 13, Giavo Berlusconi. Con il numero 24, Giave Anzio Giovedano. E con il numero 11, Agobadova. Con il numero 16, Giave Anzio Giovedano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Ciao. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Calma, calma, calma! Calma, calma. Calma, calma! Calma, calma! Calma! Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Grazie a tutti! 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 Grazie! Grazie a tutti! 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 a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! a tutti! Grazie a tutti! 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 a tutti!